Nel corso dedicato al Cooperative Learning noi ci chiederemo innanzitutto cosa sia questa metodologia. Come dice il nome, questa è una metodologia che consiste nel lavoro cooperativo. Si basa su un paradigma molto interessante e molto poco frequentato nella scuola italiana secondo il quale si impara insieme, si impara grazie all'altro, si impara con l'altro, non quindi in maniera solitaria, non quindi soltanto, esclusivamente, in maniera solitaria. Alla base c'è l'idea che il sapere sia una costruzione sociale, quindi non soltanto personale. E oggi, grazie soprattutto al fatto che il sapere circola sempre di più su flussi presenti in rete, questa metodologia sta avendo sempre più importanza. Favorisce indubbiamente l'aiuto e il supporto reciproci, in questo senso il Cooperative Learning è anche molto utile per una serie di competenze trasversali come l'empatia, per esempio il supporto nei confronti dell'altro, l'aiuto nei confronti dell'altro. E poi, in questo contesto, il docente non è più l'emittente primaria del sapere, ma è una delle tante o comunque è un facilitatore di alcuni processi. Questo ruolo non deve spaventare né sminuire la funzione del docente, il quale deve capire ormai che è in un contesto in cui la scuola non è l'unica agenzia formativa, è senz'altro tra le agenzie formative più accreditate, scientificamente più avanzate, più certificate, però non è più l'unica. Convive assieme ad altre. Il docente, pertanto, ha anche il ruolo di indirizzare i saperi che si definiscono informali, che ormai i ragazzi reperiscono anche e direi soprattutto fuori dal mondo della scuola. Come fare cooperative learning, apprendimento cooperativo a scuola? In genere è una metodologia che si adopera per dei moduli durante l'anno, uno, due volte, tre volte, non in maniera costante, anche perché sarebbero necessari spazi, luoghi completamente diversi da quelli di cui dispone la scuola italiana. Però è possibile organizzare dei moduli. In genere si seleziona un aspetto, un modulo piuttosto ampio, si forma, o meglio ancora, si fa formare alla classe un gruppo di lavoro su quello specifico modulo, su moduli differenti, e poi, questo è ovvio, si supportano i ragazzi in varie modalità durante tutto il processo, a seconda della sua lunghezza e della sua complessità. Quali sono i vantaggi? Indubbiamente l'apprendimento cooperativo produce risultati più efficaci, più brillanti. Questo, diciamo, è un risultato di massima, è un valore di massima. Non sempre così, non sempre i ragazzi sono disponibili a lavorare in gruppo. A volte sono particolarmente ostili a questa metodologia per una serie di pregiudizi, per lo più. Però si riscontra che l'apprendimento cooperativo ha, nel lungo periodo, un'efficacia maggiore di un apprendimento solitario. Ha un altro aspetto positivo che è il miglioramento del clima e delle relazioni. Questo non avviene subito. Anzi, a volte è un risultato difficile da raggiungere e richiede tempi anche molto lunghi, perché, diversamente da quello che si può pensare, i ragazzi sono spesso ostili a questa metodologia. Però, nel lungo periodo, il cooperative learning fa anche emergere delle difficoltà nei gruppi, difficoltà che può essere interessante anche scoprire e magari superare. Senz'altro, l'apprendimento cooperativo favorisce anche aspetti come l'autonomia e talora anche l'autostima, ma soprattutto il primo dei due. E poi, e questo può avvenire come no, però tuttavia si nota una certa frequenza di questo avvenimento, la creazione di gruppi di lavoro dopo iniziali e prevedibili difficoltà tende a essere stabile, efficace, anche in contesti in cui non si adopera direttamente il cooperative learning. Quindi, in sostanza, da esperimento didattico diventa una metodologia stabile. Può diventare una metodologia stabile per gli alunni. Cosa impareremo nel corso nel dettaglio, visto che l'apprendimento cooperativo è un mondo molto ampio e anche piuttosto articolato. Vedremo come progettare dei moduli piuttosto grandi, possibilmente interdisciplinari. Vedremo anche come, in quale modalità, fissare e anche valutare delle scadenze intermedie, perché quello che conta in questi casi è raramente il prodotto finale, ma il processo che si instaura. Quindi, rifletteremo su quali tipi di scadenze intermedie, sia opportuno fissare oppure no. Impareremo questo è un aspetto importante anche a far valutare se stessi da parte degli studenti, che è un aspetto che non sempre è presente nella nostra scuola. E poi rivestiremo, per questo esperimento didattico, il ruolo di facilitatore, scoprendo che non è assolutamente una sorta di diminuzione, una diminuzione del nostro ruolo, quanto piuttosto un arricchimento, una potenzialità in più, che potremmo imparare. Cosa è necessario? Qui l'apprendimento cooperativo non richiede, come altre metodologie, come la peer-to-peer, un apporto decisivo delle nuove tecnologie, che invece sono, per esempio, richieste nella Flipped Classroom o altri contesti. Digital Storytelling, per esempio. Qui quello che è richiesto è qualcosa di più profondo e più difficile, che è una disponibilità a cambiare notevolmente il paradigma e le abitudini professionali a cui molti di noi sono legati. Necessaria anche molta fiducia nei confronti degli studenti, che deve essere reciproco. La qualcosa, che sembrerebbe essere banale, non lo è, specialmente nel momento in cui si affida ai ragazzi il tema della valutazione e dell'autovalutazione. E più di altre metodologie, questa richiede molta calma, molta pazienza, perché ha all'inizio necessità di tempi molto molto lunghi. Non è fatta per chi ha fretta, non è fatta per chi deve terminare certi aspetti in certi tempi. Perché questa metodologia ha bisogno di una tempistica molto ampia e forzarla in tappe serrate significa essenzialmente finire per mortificarla. Quali strumenti online che reputo non essenziali, perché appunto questa metodologia non richiede per forza l'apporto delle nuove tecnologie. Comunque, in una visione di didattica 2.0, potremmo usare Blendspace e Padlet, che sono due siti molto utili. Siti anche per l'upload dei nostri materiali, il caricamento dei nostri materiali, come per esempio Dropbox, Box o Drive, siti che appartengono al cosiddetto cloud. E poi per quanto riguarda i video, che possono essere particolarmente utili anche per la documentazione del processo, ci serviremo del notissimo YouTube o del meno noto, ma altrettanto importante, Vimeo, oppure di un sito che in realtà consente di esprimere note e appunti durante i video, che è Videonote, un sito meno usato dei due precedenti, ma con potenzialità decisamente maggiori. Per quanto riguarda il numero di incontri alle ore, si parla di 6-9 ore, anche se 9 sono più consigliate, e un numero di incontri variabile dai 2 ai 3.